Ciao da Avsim! Superlega back again! Sembrerebbe o forse no, stiamo cercando di capire se si fa sul serio, se c'è questo upgrade, questa Superlega 2.0, quella del 2022 dopo il lancio fallimentare nel 2021 e quindi era atteso un annuncio da parte di Agnelli, da parte di Juventus, Real Madrid e Barcellona, da parte dei club della Superlega. Non si era ben capito di questo rilancio del nuovo progetto di cui stavano già circolando delle indiscrezioni, invece nella giornata di ieri 3 marzo non c'è stato nessun annuncio di questo tipo, semplicemente al Financial Times Business Football Summit si è parlato anche della Superlega ma semplicemente perché c'è stato questo incontro istituzionale appunto tra i vertici del calcio mondiale e quindi un po' tutti in carrellata, hanno preso la parola, ha parlato Ceferin, ha parlato Tebas che è il presidente della Liga, un po' come, ah no è vero il presidente della Serie A non c'è, stanno anche facendo fatica a rieleggerlo dopo le dimissioni di Dalpino ma va bene e poi ha parlato anche Andrea Agnelli. Quindi vediamo che cosa hanno detto, cerchiamo di sottolineare alcuni passaggi anche per cercare di capire dietro che cosa c'è, che cosa si muove anche a livello di giornalismo, informazione e quindi come circolano le notizie per quello che possiamo capire e poi facciamo delle riflessioni sulla Juventus di questa stagione in prospettiva Superlega e anche facendo il bentornato, augurando bentornato ad Andrea Agnelli perché è riemerso, letteralmente riemerso dal buio, dall'oscurità in cui si era andato a nascondere da mesi. Cioè per la prima volta noi Agnelli lo sentiamo e lo vediamo a marzo nel 2022, mentre ci aveva lasciato l'ultima volta con l'Assemblea degli Azionisti, cos'era ottobre, al più tardi, inizio novembre, ma per il resto completamente sparito. E comunque l'Assemblea degli Azionisti era una sede prettamente istituzionale da presidente ma come guida, ecco anche carismatica se vogliamo, della Juventus e del popolo juventino, Agnelli si è completamente assentato nel corso di tutta questa stagione. E quindi veniamo appunto alle sue parole soprattutto, poi quelle di Ceferin e quelle di Tebas, anche se erano state pronunciate prima. Agnelli ha detto il calcio, in questo momento il calcio europeo ha un disperato bisogno di riforme, non è più il tempo di fare dei compromessi, serve urgentemente cambiare, è importante quindi fare delle modifiche, il discorso delle riforme che aveva introdotto tra l'altro anni fa, infatti probabilmente nella testa di Agnelli il progetto Superlega o qualcosa di simile era in cantiere da tanto tempo. La UEFA infatti è un organo monopolistico che non è più in grado, non può più guidare, secondo Agnelli, un business come il calcio. E quindi quello che farà ora Agnelli è sedersi, sostenere una governance trasparente aspettando che il Consiglio di Giustizia Europea, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dica se la UEFA è idonea o no allo scopo, perché infatti come sapete pende giudizio sulla legittimità dello statuto UEFA preclusivo della creazione di altre competizioni. Agnelli infatti ha detto vogliamo la libertà di creare un'altra competizione e l'idea della Superlega non era nello scopo di diciamo mettersi a trattare, nello scopo di minacciare o cercare un compromesso, era proprio nello scopo di creare effettivamente una competizione. Una competizione è il progetto Superlega in sé che non è un progetto fallito, nonostante appunto non ci sia questo rilancio a distanza di 11 mesi ormai dal primo lancio, ed è anzi un lavoro collettivo di 12 club, non è una cosa che nasce da uno solo, da una sola persona o da un solo club, con un contratto di 150 pagine vincolante ad oggi per 11 dei 12 club. Il dodicesimo club abbiamo appreso da Fonte Gazzetta dello Sport è l'Inter che aveva partecipato alla Superlega condizionando però l'adesione ad una conferma da parte dell'Assemblea che non è avvenuta. Quindi l'Inter formalmente e burocraticamente è l'unica società delle 12 fondatrici a non essere più vincolata, anzi non essere mai stata effettivamente vincolata dal contratto di 150 pagine, gli altri 11 club lo sono. Questo è quello che ha detto Agnelli, vediamo cosa hanno detto Tebas e Ceferi, ne facciamo delle riflessioni. Tebas ha tuonato con delle parole molto forti dicendo i club della Superlega mentono più di Putin, tutte le leghe nazionali compresa la Liga sono contrarie alla Superlega e quindi cosa saremmo noi degli idioti? Cioè se tutti sono contrari ma questo progetto Superlega è straordinariamente bello ed è assolutamente positivo per il calcio europeo perché appunto siamo contrari e chi è contrario che cos'è o eventualmente un idiota, mi sentirei umiliato anche solo che si possa tornare a parlare di questo progetto. Se Agnelli poi oggi, quindi nella giornata di ieri, nel corso dei lavori non presenta nulla vuol dire che sta mentendo. La Superlega se la sono organizzata a casa loro, a casa sua con Real Madrid e Barcellona e qui sostanzialmente le parole di Tebas. Parola più parola meno perché poi non è stato facile, non è facile reperire i filmati originali, i video originali in inglese, ma insomma quello non era un problema di tradurlo, soprattutto l'inglese di Agnelli è un ottimo inglese, è quasi madrelingua anche per come è fluente, per come lo pronuncia. L'inglese di Ceferin è facilissimo, cioè proprio the book is on the table, però è efficace, molto efficace e quindi Ceferin che cosa ha detto? Quindi dicevo, parola più parola meno, io ho consultato vari giornali italiani quindi per confrontare anche almeno un paio di fonti diverse sulle stesse dichiarazioni per fare un raffronto, per capire che cosa realmente hanno detto i tre protagonisti. Ceferin ha detto che la Superlega non è calcio, quindi non ne dovremmo parlare, ma comunque parliamone e sono stanco, I'm sick and tired, ha detto di questo progetto non calcistico, quindi è un progetto business, lui intende, infatti prima l'hanno lanciato durante una pandemia adesso lo lanciano durante una guerra, vivono evidentemente in un mondo parallelo è un progetto senza senso, un'idea senza senso, noi come UEFA siamo preoccupati in questo momento di salvare i calciatori, sono stato 48 ore al telefono con giocatori e allenatori per la crisi in Ucraina, loro invece considerano i tifosi come dei consumatori, puramente e semplicemente dei consumatori, tra l'altro possono tranquillamente giocare le loro competizioni private, la UEFA non impedirà a nessun club di partecipare a competizioni private, ma semplicemente chi partecipa alla Superlega e a competizioni private è fuori dalle competizioni della UEFA. Poi però, su un altro argomento, Ceferin ha anche detto, abbiamo dovuto spostare gli europei, dice è stata una stagione particolarmente difficile, stagione intesa come periodo, non solo questa 21-22, particolarmente difficile e onerosa, dispendiosa per la UEFA, per tanti accadimenti ed in particolare abbiamo dovuto spostare gli europei e abbiamo avuto per questo motivo una grossa perdita, ma se non li avessimo spostati tutto il calcio europeo avrebbe avuto una perdita di 2 miliardi. Ora, non so esattamente se lui intendeva con non spostarli, disputarli nel 2020 o annullarli. Fatto sta che non può dire che i club della Superlega trattano i tifosi come consumatori se poi lui tratta lo spostamento o meno degli europei come un affare da più o meno 2 miliardi di perdite o ricavi. Quindi, ma questo per dire che cosa? Che è retorica ed è populismo, come lo era stato rispetto a tutto il chiacchiericcio che si era creato e le polemiche con il lancio della Superlega, parlare di tifosi come clienti e di tifosi invece come esseri umani trattati come tali e per il bene del calcio, i valori del calcio, il calcio del popolo. È retorica ed è populismo. Ma con questo non mi vado a scagliare contro Ceferin o contro Tebas, perché a me quello che dicono interessa poco. Mi interessa più capire realmente che cosa si vuole fare della Superlega e anche, dicevo prima, che cosa aleggia dietro quello che noi sentiamo, perché dobbiamo sempre andare dietro le cose e chiederci perché. Tutto quello che ci arriva è filtrato, anche quello che vi sto dicendo io è filtrato attraverso me e a mia volta ho ricevuto il filtro delle fonti di informazione a cui ho potuto accedere per la serie. Siamo tutti ignoranti e dobbiamo accettare questa cosa cercando di andare oltre la nostra ignoranza fisiologica, fisiologica. E quindi vi dico come la penso dal punto di vista dei meccanismi giornalistici e quindi diciamo di comunicazione e di potere e poi vediamo che cosa possiamo dire su Agnelli e sulla Superlega ad oggi. Nello specifico ho notato che sia Ceferin che Tebas hanno fatto riferimento a queste voci che circolano tra i giornali circa un nuovo progetto Superlega che però appunto non è stato presentato. Nuovo progetto che in particolare dovrebbe prevedere secondo indiscrezioni, quindi la Superlega 2.0, una maggiore attenzione alla meritocrazia, quindi non più un numero chiuso per entrare nella Superlega, ma anzi un meccanismo di promozione e retrocessioni con una Superlega A e una Superlega B, quindi una Superlega B alla quale si accede mediante i campionati nazionali e una Superlega A alla quale si accede probabilmente mediante la Superlega B, in cui si può anche ritornare scendendo dalla Superlega A. Queste dovrebbero essere sostanzialmente le modifiche principali, quindi andare in qualche modo a rispondere, ma in questo senso legittimandole, alle polemiche, alle proteste sul calcio del popolo e sulla Superlega come competizione elitaria antimeritocratica. Cioè la Superlega come sapete è stata attaccata non tanto come altra competizione che non si può fare, ed è una vergogna perché va a svilire, ad attaccare, a delegittimare il calcio europeo della UEFA, ma è stata attaccata col fine di delegittimarla come competizione altra per il tramite di un'altra retorica, di una narrativa diversa, cioè quella del calcio del popolo. Perché era più facile portare a tutti noi quel tipo di narrativa. Se fossero andati loro a spiegare alla gente in generale, ai tifosi di calcio in tutta Europa, che la Superlega era un problema perché c'è una struttura istituzionale del calcio europeo, c'è un territorio sportivo dove governa la UEFA, la UEFA esclusivista, dopo due parole la maggior parte dei tifosi avrebbero staccato l'attenzione, avrebbero detto sì vabbè ma da me che vuoi, che cosa mi stai dicendo. Allora per attaccare e screditare la Superlega in maniera efficace l'hanno tirata su su calcio del popolo e antimeritocrazia. Con la modifica sulla meritocrazia però la Superlega, i club della Superlega commettono un ulteriore errore secondo me, perché se tu vuoi fare una competizione elitaria vuol dire che hai la necessità di fare una competizione elitaria e vai avanti per quella strada. Se invece poi ti riremi in barca non stai facendo altro che legittimare le critiche che te erano arrivate dando ragione, ma anche facendo una provocazione un po' infantile della serie. Ci avete contestato per la scarsa meritocrazia, adesso abbiamo ripristinato la meritocrazia. Come ci criticherete, come ci attaccherete? Non è esattamente un modo di riporsi per dialogare. E non dimentichiamo, e poi ecco, parentesi però, così chiudo sul discorso mediatico e andiamo sulle altre considerazioni. Il discorso mediatico è che queste informazioni che circolano sui giornali a cui Ceferin e Tebas si sono agganciati, ma che però non trovano riscontro perché di fatto non è stato concretizzato nulla, mi fanno sospettare che siano stati Ceferin e Tebas, che sia stata la UEFA, che siano state le leghe nazionali a far circolare la voce che stava per nascere una nuova Superlega 2.0 con queste modifiche, per poter poi avere il pretesto per attaccarla nuovamente. È una cosa un po' maliziosa probabilmente, però non è lontana dalla realtà in generale. In questo caso non lo so, però in generale capitano queste cose. Capita assolutamente che a manipolare l'informazione in un senso sia chi si deve schierare poi nel senso opposto, creando il pretesto, creando il pretesto, il cosiddetto caso sbelli che esiste in guerra ed esiste anche nell'informazione, perché c'è guerra anche a livello politico senza armi ed è una guerra di comunicazione. Ma qui andiamo veramente oltre. Facciamo allora queste dovute debite, doverose anzi, considerazioni su Agnelli e sulla Superlega, come appunto stavo già accennando, partendo dal fatto appunto che Agnelli ha detto non si trattava di un'iniziativa dirompente per porre i presupposti per andare a fare un compromesso, quindi per trattare né una minaccia ma un progetto serio. Su questo Agnelli non è credibile, mi perdonerete, ma non è assolutamente credibile, perché il lancio della Superlega non era di per sé credibile. Ricordate quel sito web che fu lanciato per la Superlega? Cos'era? The Superleague? Non so neanche se è ancora in piedi. Era chiaramente una cosa che il mio falegname con 30.000 lire lo fa meglio, per citare Aldo, Giovanni e Giacomo che ci sta sempre bene, perché era chiaramente a livello comunicativo, ma proprio di manifesto, qualche cosa di impresentabile, qualcosa di inconsistente, totalmente inconsistente. Allora, se tu non sei in grado di fare neanche un sito web, vuol dire che non hai un progetto. Cioè, come minimo dovresti avere un sito web in cui ci sono dei contenuti, perché significa che stai avviando veramente un progetto. E poi ci furono tutte le dichiarazioni. Florentino Perez che disse che l'obiettivo è di partire ad agosto, ma non si capiva di quale anno, con la consapevolezza mal celata che prima del 2022 non se ne sarebbe potuto riparlare, ma forse neanche 2023. E poi ricorderete che nei mesi successivi Agnelli, tartassato da questo punto di vista, cioè dal fatto che la Superlega aveva subito perso consistenza, è andata a dire più volte che cercavano il dialogo. Che dopo fatto questo lancio fallimentare dell'iniziativa, si sarebbe cercato il dialogo con la UEFA. E che addirittura quello era l'obiettivo principale. Ora viene a dire che l'obiettivo non era quello di andare a cercare un compromesso. Cioè, della serie era l'obiettivo creare una competizione, rompere gli schemi, però andare fino in fondo e chi se ne frega del resto. Non è quello che hanno fatto. Non è quello che hanno fatto, non è quello che sono stati in grado di fare. E a distanza di quasi un anno è ancora tutto fermo. Che ci sia un contratto di 150 pagine vincolante, chi se ne frega, è una cosa che riguarda i club che sono vincolati. Regoleranno loro la questione. Possono tranquillamente però sedersi al tavolo e rinegoziare quel contratto, modificarlo. Non è che sta lì ed è legge eterna, immodificabile. Quindi non significa nulla che ci sia un contratto vincolante. Il contratto vincolante è solo il proclama di Agnelli per dare ancora peso politico all'iniziativa. Come dire, non è morta, non è appunto un fallimento. Non è fallita, ma non è fallita semplicemente perché c'è ancora questo contratto che è vincolante. Altrimenti che cosa ne sarebbe della Superlega e che cosa ne è ad oggi. Quindi tante chiacchiere al vento da una parte, ma anche dall'altra, anche da parte di Agnelli. Perché non è, secondo me, condivisibile, non è credibile nel momento in cui dice quello che ha detto. E poi altra frase che ho saltato, ma qui veniamo appunto volutamente alla Juventus, dove vedi la Juventus tra cinque anni, la vedo nella più importante competizione europea. Ecco, anche qui ci agganciamo a quello che ho detto un attimo fa. Se tu sei convinto che stai facendo la Superlega, a questa domanda rispondi, la Juventus tra cinque anni sarà nella Superlega. Non nella più importante competizione europea. Facendo riferimento che potrebbe anche essere la Champions League. Perché se tu vuoi rompere gli schemi, perché la UEFA è monopolista, perché la UEFA non può più guidare questo business, perché c'è bisogno di un'altra struttura istituzionale, di una governance trasparente. Tu non ci pensi minimamente che tra cinque anni la tua Juventus sia nella Champions League. Detto tra l'altro, ecco, un'altra dichiarazione che ho tralasciato, ma insomma, c'erano altri dettagli. Agnelli, per esempio, ha anche detto che la UEFA sapeva da tempo che io stavo come presidente della Juventus lavorando a qualcos'altro. Ok? Questo è per rivendicare il fatto che lui non ha tradito. Va bene, sorvoliamo su questo, ma tornando all'orizzonte Juventus, ecco, io penso che il tema principale, e forse qualcuno nei commenti, anche prima di arrivare a questo minuto del video, l'avrà già scritto, è l'attrattività. L'attrattività. Quindi, al di là di tutte quante le chiacchiere, come si partecipa alla Superlega? Che sia Superlega A, Superlega B, promozioni, retrocessioni, piuttosto che numero chiuso per chiamata senza meritocrazia. Si partecipa a motivo dell'attrattività. Non è una questione di essere un club blasonato perché hai un certo numero di trofei. È una questione di avere un certo bacino d'utenza, perché il principio cardine della Superlega, non è tanto quello di andare a rompere gli schemi istituzionali del calcio europeo, ma è quello di creare una competizione che genera maggiori ricavi. Perché ricorderete le tante parole di Agnelli, anche prima di annunciare la Superlega, la famosa frase due anni fa sull'Atalanta, che era una storia europea? Il principio è sempre stato quello. Nelle competizioni europee si devono sfidare le squadre che creano la maggiore attrattività, il maggiore entusiasmo, la maggiore appetibilità. Ecco, dove si presenta la Juventus di oggi? La Juventus abbandonata da Agnelli, che prima ha cacciato Sarri per prendere Pirlo, per poi cacciare Pirlo e prendere Allegri, e riducendo la Juventus abbandonata da Agnelli ad una squadra da 1-0, 0-0, 1-1, 0-1, senza una proposta di calcio, con un allenatore strapagato, giocatori costati tantissimo per andare a giocare il minimo, a fare un calcio minimo. Questo non è calcio attrattivo. Oggi la Juventus, al di là dei risultati che non contano nulla nella Superlega, perché conta il blasone, non avrebbe diritto di partecipare alla Superlega. Per la scarsissima attrattività, chi ha interesse a guardare le partite della Juventus? Ormai più neanche noi juventini. Figuriamoci il grande popolo dei tifosi di calcio europei e mondiali cui si vorrebbe rivolgere la Superlega. Quindi siamo ad una palese, netta e insopportabile a un certo punto contraddizione di Agnelli tra le sue parole e i suoi fatti. Se Agnelli vede la Juve tra 5 anni nella più importante competizione europea, non caccia Sarri. Se caccia Sarri e prende Pirlo, non caccia Pirlo. E comunque non prende Allegri se caccia Pirlo, perché con Allegri tra 5 anni nella più importante competizione europea. Se la intendiamo in termini di attrattività del gioco non ci arrivi. Tra Sarri, Pirlo e Allegri l'unico allenatore, o diciamo il principale allenatore capace di dare l'attrattività alla Juventus per arrivare in Superlega era Sarri. Eventualmente anche Pirlo dandogli tempo di lavorare, ma Allegri proprio no. E Allegri è stato cacciato all'epoca sia perché si era arrivati dopo 5 anni alla necessità di andare oltre, ma anche proprio per la scarsa attrattività della Juve in campo europeo. Al di là delle due finali giocate malissimo, perse complessivamente 7 a 2, e degli altri piazzamenti europei che a tratti sono stati migliori di quelli con Pirlo e con Sarri gli anni successivi. Ma l'attrattività non c'è stata, l'appetibilità non c'è stata come ci poteva essere e ci doveva essere. Senza contare che siamo nella prima Juve dopo Cristiano Ronaldo e direi che le cose da questo punto di vista, cioè dal punto di vista dell'immagine, non stanno andando benissimo. Quindi probabilmente Agnelli avrebbe fatto meglio a lavorare di più e meglio solo sulla Juventus, lasciando che fosse magari Perez a fare la Superlega se ne aveva le capacità, accodandosi semplicemente come si sono accodati tutti gli altri club che sono rimasti o che hanno rivoltato le spalle. Non c'era bisogno che Agnelli facesse il frontman della Superlega. Basterebbe, anzi sarebbe stato necessario che avesse fatto e continuasse a fare il frontman della Juventus, ma non solo per proclami e a chiacchiere bensì per fattivamente costruire un progetto che in questo momento vede la Juve a stento a meritarsi i primi posti in Serie A come qualità del gioco. Figuriamoci andare in Superlega. Grazie per la vostra attenzione, video abbastanza lungo ma insomma c'erano alcune cose credo interessanti da dire, spero che quindi vi sia piaciuto. Fatemelo sapere nei commenti e buon dibattito con le vostre considerazioni e fatemelo sapere anche eventualmente con un like se vi è piaciuto. Condividete questo video con chi è interessato all'argomento e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi contenuti. Potete anche abbonarvi a questo canale, vi bastano a livello base 99 centesimi al mese per avere tanti vantaggi e sapere in anteprima quando usciranno i miei nuovi video e di cosa vi parlerò, entrare nelle chat riservate su Discord e partecipare in esclusiva alla chat dei miei live post partita della Juventus. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!